Tutto ciò che allenta i legami della consapevolezza, che cosa può fare affiorare i corpi superiori? Commento. La stanchezza fa affiorare i corpi superiori. Tutto ciò che allenta i legami della consapevolezza che ci avvince al corpo fisico, ci apre alle informazioni che provengono dai corpi superiori. Il contatto può avere un'escursione molto vasta, che va dalle visioni astrali del veggente all'estasi del santo.